Il coronavirus non molla la presa nella nostra provincia, dove oggi il numero di morti è tornato a salire, toccando quota 10 vittime. I decessi nel Piacentino, dallo scoppio dell'epidemia, sono 841. È il dato che arriva dalla regione Emilia-Romagna il consueto appuntamento quotidiano con il commissario Sergio Venturi, impennata anche per quanto riguarda i contagi, 75 i nuovi casi registrati oggi, che portano così il totale a 3826. A questo proposito però, Venturi ha ancora una volta sottolineato che l'aumento delle positività registrate è da collegare all'incremento dei tamponi effettuati. Non preoccupiamoci perché questa è la maniera migliore di testare e di tracciare la malattia, andando a cercare anche le persone asintomatiche. Questo a Piacenza si sta facendo sia nelle case che nelle crani ed è la maniera migliore per impedire che il virus continui a diffondersi. Ma comunque stiamo parlando di uno scenario che a Piacenza non vede i ricoveri in aumento. Vi confermo che, per quanto riguarda i casi odierni, i due terzi sono relativi a utenti delle case protette senza sintomi che stiamo continuando a sottoporre a tampone, anche quelle senza sintomi, in modo tale che siamo in grado di isolare queste persone, mentre il restante terzo sono persone domiciliate a casa loro che non avevano tampone, non avevano seguito tampone, quindi persone di diversi giorni fa. In Emilia-Romagna, dall'inizio della crisi sanitaria, si sono invece registrati 24.662 casi di positività al coronavirus, 212 in più rispetto a ieri, uno degli aumenti più bassi registrati ultimamente. Le nuove guarigioni sono 283, 9.006 in totale.